. Mario Serpa e Claudio Sona a Uomini e Donne, pace fatta con Maria De Filippi Avvistati Mario Serpa e Claudio Sona negli studi di Uomini e Donne, pace fatta con Maria De Filippi. . Maria De Filippi è davvero arrabbiata con Mario Serpa e Claudio Sona? Di questo tanto si è parlato negli ultimi tempi, soprattutto quando il settimanale Oggi aveva pubblicato la notizia di un possibile allontanamento di Mario dalla trasmissione. . . Pur non avendo fatto nomi era facile intuire, fin da una da una prima lettura del giornale, che la persona a rischio fesse proprio lui, ovvero l'ex corteggiatore. . 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 Qualche minuto fa, infatti, Mario Serpa ha postato su Instagram Stories alcune immagini dove, agli occhi dei più attenti, non è sfuggito un dettaglio rivelatore. . . . . . Quello che sappiamo finora è che in studio ci saranno Alex Migliorini e Alessandro D'Amico, Angela Calloisi e Paolo Crivelline e, probabilmente, anche Mario Serpa e Claudio Sona. Quest'ultimo infatti potrebbe essere stato inviato dalla trasmissione per partecipare alla puntata delle coppie oppure, al contrario, essere lì solo perché ha accompagnato il suo fidanzato. In ogni caso, comunque, la sua presenza dietro le quinte conferma una cosa, se è vero che Mario e Claudio erano ai ferri corti con lo staff della De Filippi ormai, è ufficiale, pace è stata fatta.